Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, che inizio anno sarebbe senza l'immancabile dose di speculazioni sulla fantomatica Switch Pro? Questa volta però il 2021 sarà l'anno buono, un po' come lo sono stati anche il 2020, il 2019 e il 2018, ma Nintendo sembra pronta a svelare la Switch potenziata. A parlare è un dataminer di tutto rispetto e facendo un po' di ordine tra le informazioni immerse, beh, lo scenario che si prospetta non è poi così realistico. Prima di entrare nel dettaglio, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Sul forum di Resetira sono state raccolte tutte le informazioni che l'hacker dataminer Sider Sam ha scovato all'interno dell'ultimo firmware della console. Si tratta di dati incompleti a cui vanno integrati delle speculazioni e non, ovviamente, di informazioni certe al 100%. In ogni caso, secondo il dataminer, nonostante le recenti smentite da parte dell'azienda, Nintendo sarebbe al lavoro sul nuovo hardware da circa due anni e il nome in codice del progetto sarebbe quello di Aula. Il system on chip posto nel cuore della console sarebbe sempre il Mariko, ovvero il Tegra X1 Plus già visto all'interno della Switch Lite e del secondo modello della Switch base. Questo significa che le prestazioni della Pro sarebbero molto simili ai modelli precedenti, ma Cyrus, sottolinea come Nintendo, potrebbe tranquillamente optare per la soluzione dell'overclocking per avere un modesto incremento della potenza hardware. La Switch Pro, o se vogliamo la New Nintendo Switch, presenterebbe un nuovo schermo OLED migliorato, anche se il dataminer non è riuscito a trovare alcun riferimento esplicito alle risoluzioni supportate. È fondamentale notare però che questo passaggio conferma il fatto che la console supporterà sia la modalità handled che quella fissa, smentendo le speculazioni che l'avrebbero voluta come una piattaforma utilizzabile esclusivamente in docked. C'è però un altro elemento da non sottovalutare. All'interno del firmware è stato trovato il supporto a un chip Realtek, indicato come un 4K Ultra HD Multimedia System on Chip, quindi la console potrebbe essere in grado di riprodurre contenuti multimediali ben oltre il Full HD. Ma attenzione, perché da nessuna parte è confermata la presenza di questo chip all'interno della console, il che riapre lo scenario già ipotizzato in passato di una dock potenziata in grado di migliorare drasticamente le prestazioni una volta collegata la console alla TV di casa. Quindi, ricapitolando, la Switch Pro sarebbe sostanzialmente una versione potenziata della Switch base, un nuovo schermo OLED e supporto al 4K, ma probabilmente solo in modalità fissa tramite l'utilizzo di una nuova dockstation. Non c'è alcuna conferma ufficiale e non dimentichiamoci che fino ad ora Nintendo ha sempre smentito l'esistenza di un terzo modello appartenente alla famiglia di Nintendo Switch. Anche la Lite però è arrivata dal nulla, presentata a sorpresa dopo mesi e mesi di smentite. L'idea di una revisione mid-gen in grado di offrire delle prestazioni migliori senza costringere l'utenza a cambiare ecosistema, si inserisce poi perfettamente all'interno delle dichiarazioni di Nintendo secondo cui la Switch sarebbe arrivata solo a metà del suo ciclo vitale. Quindi, proprio come è successo con PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, una nuova Switch potrebbe esattamente posizionarsi come anello di congiunzione tra l'attuale generazione e un'eventuale next-gen che arriverà molto più in là nel corso degli anni. E le informazioni che sono emerse dal data mining di Series M a mio avviso hanno perfettamente senso e credo proprio che sì, questo sia l'anno buono per Nintendo Switch Pro. Insomma, basta anche guardare la storia delle console Nintendo, sia portatiliche che fisse, per rendersi conto come l'azienda di Kyoto abbia continuamente proposto revisioni e perfezionamenti dei suoi hardware anche durante le fasi avanzate del loro ciclo vitale. Quindi, poracci, voi cosa ne pensate? Vedremo una Switch Pro nel 2021? Sarà accompagnata magari da un gioco di rilievo come potrebbe essere Breath of the Wild 2? Vi aspetto nei commenti. Siete arrivati fino qua in fondo, quindi che ve lo dico a fare? Il like lo avete già messo, iscritti lo siete sicuramente e la campanella delle porotifiche l'avete attivata ormai da tempo. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Pro, Michele Switch, ciao! Ciao!